Grazie a tutti Ci è pesata per via delle assenze Ci mancano quattro giocatori Giocano in categoria E giocando il pomeriggio Non potevano esserci Vuoi fare un piccolo commento Sulla partita di oggi? Complimenti a Living Game Che non hanno mai mollato Quindi il risultato è giusto Che sia venuto Con un margine così elevato per loro E noi dobbiamo fare solo a meta Ok, siamo ancora in inizio stagione Quindi il campionato è ancora lungo Speriamo in meglio per le prossime partite E arrivederci Buona fortuna ragazzi Arrivederci